Ed ecco, cari amici, che per quanto riguarda WhatsApp, cosa che noi utilizziamo, inutile nasconderlo tutti i giorni, arrivano delle novità. Continua in qualche modo a cambiare le regole, a cambiare in un certo senso pelle, implementando nuove funzionalità che sono in grado di rendere l'esperienza dei propri utenti sempre più simile a quella proposta da alcune app che sono concorrenti. Quindi ricordiamoci anche della concorrenza, molte volte per forza di cose devono cambiare per stare, diciamo, un attimino al passo coi tempi. Dando così la possibilità di andare a modificare un messaggio già inviato, ad esempio, entro 15 minuti, quindi un quarto d'ora, e quella di creare chat private nascoste per poter tutelare in maniera maggiore la privacy. Ma eccoci arrivare alla novità di oggi, che ovvero riguarda username univoci, novità che consentirà agli utenti di scegliere un nome distintivo da assegnare proprio al proprio profilo. Questa soluzione permetterà ai fruitori della celebre app di messaggistica istantanea di scambiare i contatti con altri utenti senza più la necessità di condividere anche il proprio numero di telefono. Una possibilità dà molto tempo a disposizione su Telegram e che ha consentito ai suoi utilizzatori di condividere il proprio contatto mantenendo una certa privacy. WhatsApp, quindi, prende spunto dalla concorrenza per mettere a disposizione dei suoi utenti queste importante novità. Al momento si tratta di una funzionalità a disposizione solo dei tester della versione beta Android 2.23.11.15, ma dopo la sua prossima distribuzione anche fra gli utenti iOS si potrà arrivare al lancio pubblico presumibilmente in tempi piuttosto rapidi. Come anticipato da Wabeta Info, la funzione è stata individuata come nuova voce dal menu di gestione del profilo personale all'interno delle impostazioni direttamente nella sezione Account. Proprio poco sotto il nome che di solito viene mostrato nelle chat compare la possibilità di selezionare il proprio username univoco. È sufficiente fare, tap, sull'icona raffigurante una matita per accedere a un sistema di ricerca che consente al fruitore di WhatsApp di avere la certezza che il nome scelto non sia stato selezionato prima da qualcun altro e risulti pertanto ancora a disposizione. In caso contrario, sarà necessario pensare a un'altra soluzione. Essendo gli username univoci, è ovvio che nel momento in cui questa funzione verrà resa disponibile ci sarà una vera e propria corsa per accaparrarsi quelli più ambiti. Per ora non è chiaro se, una volta selezionato il nome univoco del proprio profilo, verrà concessa o meno all'utente anche la possibilità di modificarlo o se la sua scelta risulterà invece definitiva. L'unica certezza è che si potrà condividere il proprio account senza dover fare altrettanto col numero di cellulare. Una volta fatto ciò, questo verrà salvato direttamente nella rubrica dell'applicazione, ma non in quella del telefono. Cari amici, per questo video è tutto, vi ringrazio per la visione, mi raccomando lasciate il vostro segno qui sotto, un bel like e se non siete iscritti iscrivetevi al canale oppure seguite la pagina, è tutto gratis. Vi ricordo che in questa pagina si parlerà di gossip tv, spettacolo, politica, sport, curiosità e tanto altro. Detto questo vi saluto, mi raccomando vi aspetto al prossimo video, ciao, un saluto da Max.